Ma ho sbagliato a esprimere, ma come è che ho sbagliato caro? Non ho dato neanche io valore al bacio, ma non perché non gli ho dato valore, perché per me non me ne frega un c***o del bacio, poteva esserci come non esserci. Come non te ne frega un c***o del bacio? Confronto arresto. Ma scusa, ma sti c***o di valore, ma dov'è che gli dai te i valori? Ma no, ma sarai, sarai, vuoi ascoltare invece che... No, non riesco ad ascoltare se spari c***o, non ce la faccio. Ma posso dirci una cosa? Sei qua? Non ce la fai, non ce la faccio. Hai ragione, non ce la faccio, perché sei qua che appena sbagli una parola e dici vabbè ciao, o mi ascolti, o anche tu ti metti nella condizione di ascoltare e di disciplinare il c***o. Ma che condizione vuoi? Ma che c***o vuoi dire? Ma tu che mandi la c***o a me, ma ascoltami un attimo. Io mi sono messo dall'inizio nella condizione di capire tutto. A oggi mi sono rotto il c***o. Ti chiedo di capire, se lo vuoi capire, se lo vuoi capire è bene, se no io di una mezza, neanche mezza donna, di una bambina, io non me ne faccio un c***o, capito? Quando un giorno, quando un c***o, quando un giorno, ti sentirai essere più donna, altrimenti, guarda che per me è a posto così, è a posto così, ma tu puoi parlare. Ma non far fuggliare, dimmi. Ok, pensi che non abbia fatto la sueglie, ma neanche a me vale il bacio, ma sono una c***o anch'io. Ma scusa, ma tu come pensi di arrivare a me, fammi capire. Grazie.